Il 5 settembre di 14 anni fa si consumava l'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco pescatore di Pollica. Come ogni anno, nel comune cilentano si commemora in questo giorno la sua memoria. Quest'anno però la fondazione che porta il suo nome ha smorzato di molto gli animi, denunciando una vera e propria azione deliberata per cancellare la memoria del compianto sindaco. Sono passati 14 anni dall'omicidio del sindaco Vassallo, ma nel frattempo la sua memoria continua ad essere offuscata ad azioni considerate inaccettabili. Inizia così il duro comunicato della fondazione Angelo Vassallo. Nel documento la fondazione denuncia pubblicamente l'operato dell'attuale amministrazione comunale, per atti visti come una dannazio memoria verso Vassallo. Il presidente della fondazione, Dario Vassallo, denuncia inoltre atti volti a ledere proprio la fondazione stessa, partendo dal vero e proprio sfratto ricevuto con l'espulsione della stessa dalla storica sede del castello di Capano, per affilarlo ai privati. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spiega il presidente, è rappresentata da una serie di azioni che hanno portato alla rimozione o alla distruzione di opere frutto del lavoro di Angelo Vassallo e della fondazione. Il gesto più significativo, si legge nella denuncia, è stata la rimozione di ogni elemento commemorativo nel luogo dell'omicidio di Angelo, compreso il tricolore e le bandiere delle associazioni ecologiste. Si parla di tentativo brutale di cancellazione della memoria e di oblio verso una vicenda che ancora oggi lascia ombra su tutto il Cilento. L'atto più grave, però, è rappresentato dalla rimozione del monumento Grande Onda, installato cinque anni fa con elementi di riciclo provenienti da Italia e Germania. La rimozione, come spiegato, è stata attuata dal comune con la promessa di piantare nuovi alberi. Mentre tutta Italia ricorda Angelo, il suo paese lo dimentica, afferma il presidente. A nulla poi servono premi retorici o corone in mare. L'incarano dopo la dose. Angelo ha cambiato le sorti del Cilento, ha combattuto battaglie per difendere la sua terra e a questi tentativi di azzeramento nel suo ricordo noi rispondiamo con le sue idee, che sopravvivono ancora più forti. Conclude poi appellandosi a tutti i sostenitori del pensiero di Angelo Vassallo, invitandoli a perseverare nella loro ricerca di libertà per ricostruire la Grande Onda.